Musica Ciao, sono Elena, MacAuto di Visione Gomme, siamo qui a Varano delle gare in pista per il weekend dedicato alle gare a Formula X Italian Series. Il nostro lavoro nel fine settimana di gara è quello di dare il servizio ai pneumatici a chi gareggia, soprattutto a PC15 e la Formula X, in quanto hanno il monogomma Yokohama. Durante il fine settimana noi siamo qui a disposizione con i pneumatici sia slick che rain in caso di pioggia e diciamo che quantitativamente siamo sui 400 pezzi tutti i fine settimana. Il nostro lavoro nell'ambito del motorsport dura ormai da tanti anni, Sono tre anni che facciamo servizio per la Formula X in quanto service ufficiale con Yokohama Italia e diciamo che il motorsport è la nostra passione, quindi noi siamo felicissimi di essere qui in campo gara per dare servizio a tutti i piloti e tutti i team che corrono nel campionato FX Italian Series. Vorrei ringraziare soprattutto il campionato, l'organizzazione della Formula X per averci dato questo compito e per la fiducia, tutti i piloti e tutti i team che si servono da noi e mi piacerebbe anche ringraziare Yokohama Italia che ha con noi questa partnership ormai da tanti anni e che continua con grandi soddisfazioni. Grazie a tutti.